Oggi parliamo di Whatsapp e di un utilizzo, diciamo, evoluto di Whatsapp. Forse non tutti sanno, ma è possibile personalizzare le notifiche per ogni singolo contatto. Vi chiederete quale possa essere l'utilità di tutto questo. Beh, innanzitutto è capire già in base alla notifica appunto chi vi sta mandando un messaggio. Una cosa, ovviamente non vi consiglio di mettere una notifica diversa per ogni amico, se no, di tutto rischiate di diventare pazzi e poi di non capire comunque più nulla. Ma magari delle persone a cui, o anche dei colleghi di lavoro, oltre che gli amici, che volete rendere particolari i messaggi, quindi le notifiche, sapere subito chi vi scrive, per dargli maggiore importanza magari, poterlo andare a leggere prima magari degli altri messaggi, ecco, questo può essere molto utile. Allora, come si fa? Ma semplicemente si entra nella chat, quindi nel vostro contatto che volete personalizzare la notifica, cliccate sulla sua immagine, arriverete quindi nella pagina del profilo del vostro contatto, cliccherete su notifiche personalizzate e poi andrete a scegliere appunto la notifica che più volete, o tra quelle che avete all'interno del vostro smartphone, oppure potete anche inserire un file audio. Ovviamente vi consiglio qualcosa di breve, perché deve essere la notifica per l'arrivo di un messaggio. E a questo punto avrete modificato il messaggio di notifica, quindi il suono di notifica, per quel tipo di contatto lì, che sarà unico e solo per quello.